Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento quindicinale sulla rubrica che gentilmente Radio Science mi mette a disposizione. I miei temi che tratterò sono sempre i temi del lavoro, un tema che viene poco parlato, anzi assolutamente taciuto dai media, però il compito che faccio io è quello di ritagliare un po' queste notizie che sfuggono da quelle che vengono più chiacchierate, da quelle che vengono più pubblicizzate dai media. Partiamo questa sera con una riflessione su un libro che io mi accingevo a rileggere ed è questo, sono le imprese economiche di pantalone di Amadeo Bordiga. Chi è Amadeo Bordiga? Amadeo Bordiga è stato il fondatore assieme a Antonio Gramsci, in realtà Antonio Gramsci è stato trascinato un po' da questa vehemenza di questo personaggio nella fondazione del Partito Comunista del 1921 ed è stato il primo segretario. Poi attraverso il fascismo è stato posto al confino e alla fine della guerra ha riniziato con un po' di libertà, c'era un po' la possibilità di esprimere anche le proprie opinioni, iniziò a rifare attività politica, ma lui diceva che ormai lo stalinismo aveva distrutto qual era il filo conduttore del marxismo e quindi si trattava di rimettere i paletti al loro posto. E su questo libro mi ha colpito una frasetta che diceva, ed è l'argomento, il primo argomento che tratterò questa sera, ed è il debito pubblico, il prestito di Stato, è la creazione di un attivo per i capitalisti, di un passivo per la popolazione nullatenente. Che cosa volevo dire in realtà? Cosa vogliono dire questi due piccoli passaggi? Quindi vediamo la creazione di un attivo per i capitalisti e come si fa? L'altra volta avevamo analizzato sull'altra trasmissione come lo Stato fa l'esattore ormai per quell'1% di capitalisti iperpagati, iperpotenti ormai, e mantengono il sistema, a fronte del 99% della popolazione nullatenente. E lo fa l'esattore per loro, stornando soldi che lui raccoglie e dandoli a questi imprenditori. Abbiamo visto Banca Intesa, che in prima persona lo Stato si accolla il debito di questa concentrazione di capitale finanziario, ma nel tempo abbiamo visto anche la Job Act, dove per l'assunzione di a tempo indeterminato, quella che elevava l'articolo 18, si regalavano 8 mila euro di bonus per chi veniva assunto con questa nuova regola. e vediamo altri, tipo questa, il piano Industria 4.0. Il piano Industria 4.0 come è fatto? È fatto che il Presidente degli Industriali propone di allungare e addirittura diventare strutturare gli incentivi e gli investimenti attraverso un ammortamento, un super ammortamento del 140% e un iper ammortamento del 250%. Questo comporta in un solo mese di estensione dell'iper ammortamento, costa all'erario 15 milioni. Allora, propone che dal 2018 diventi strutturale questo iper ammortamento del 200%. Che cosa vuol dire l'iper ammortamento? Significa questo, ad esempio, che un macchinario del costo di un milione è acquistato dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 e ha determinate caratteristiche, il macchinario, parlo sempre dell'industria, può essere impostato questo come costo dell'impresa a 2.500 euro invece che a 1.000 euro. Sapete che c'è la possibilità per le industrie dei macchinari strutturali di portarli a detrazione dell'utile. In questo caso, se la macchina mi è accostata con l'iper ammortamento del 250%, se la macchina che io ho comperato mi costa un milione di euro, io posso mettere a passivo 2.500 euro, 2.500.000 euro. E questo corta con evidente vantaggio, svantaggio per il fisco e un vantaggio per l'impresa, perché su quei 2.500.000 euro non pago le tasse, perché è un costo, quindi una detrazione, mentre per l'entrata all'erario sono meno soldi che entrano e quindi poi si fanno le spendi in review, poi si hanno i servizi sempre peggiori per la povera gente, perché deve ricorrere all'ospedale pubblico, mentre questi che noi gli diamo le regalie vanno sugli ospedali privati, quindi sono trattati con i guanti. Ma l'altra notizia è che apparsa, sono sempre notizie scollegate, però bisogna sempre, la difficoltà è quella di collegarle, apparsa su Repubblica il 30 marzo di quest'anno e dice che ogni robot, cioè ogni automa, vale 6 operai, quindi lo Stato fa l'esattore, storna i soldi alle imprese, le quali imprese investono in questa industria 4.0, hanno un bonus attraverso l'iperammortamento, cioè il 250%, e i lavoratori vengono cacciati fuori dalle fabbriche. È una regalia che viene fatta all'industria, ai capitalisti in pratica, e questi diventano sempre più potenti, perché possono essere anche arroganti, perché hanno i soldi per farlo, e noi diventiamo sempre più poveri, e sempre più anichiliti. Altra notizia è che il tasso di disoccupazione è aumentato, il lavoro, il passo indietro di maggio, risale la disoccupazione all'11,3%, e questo l'ha riportato martedì 4 luglio, si trova sui giornali, o su Repubblica, o sul Corriere, nella parte economica. Quindi, da una parte abbiamo lo Stato, che raccoglie i soldi dai poveri, e gli storna alle industrie, perché si ammodernizzino, perché creino più produzione, perché vadano a diminuire il costo del lavoro, dall'altra la disoccupazione aumenta. Ma quello che volevo accennare era questo, che molti non sanno come viene calcolata la disoccupazione. Siccome i dati vengono dall'Istat, basta collegarsi un attimo dall'Istat, e ho trovato quello che, basta andare in Istat, e ho trovato i dati che i giornali riportano. Quindi, l'Istat dice che questi dati raccolti sono del trimestre da marzo a maggio. Come si fanno questa statistica? Questa statistica viene fatta in questi tre mesi, nell'arco di tre mesi, viene messa una settimana di riferimento, cioè, facciamo l'esempio, la prima settimana di marzo, fanno delle interviste a delle famiglie, e dicono, in questa settimana ci sono state determinate domande che vengono fatte. Ma però, sul glossario, c'è un ma però, sul glossario che dice cos'è la forza lavoro, e cosa sono gli occupati. Come l'Istat, che poi, fra l'altro, riprende un metodo statistico che è su tutta Europa, come può essere considerato un lavoratore occupato? Ecco, un lavoratore occupato sono questi. Occupati, comprendono le persone di 15 anni e più, che nella settimana di riferimento, come dicevano prima, hanno svolto almeno un'ora in qualsiasi attività che preveda un corrispondivo monetario o in natura. Quindi, basta lavorare un'ora alla settimana e non sei più disoccupato. Può essere il corrispondivo, può essere in natura, possono darti un chilo di mele, di pere, comunque, tu sei occupato. Il secondo parametro, hanno svolto, quindi l'occupato, almeno un'ora di lavoro non ritribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente. Cioè, in pratica, se noi teniamo in considerazione questi parametri e vengono tenuti in considerazione questi parametri, non si può dire umanamente che uno è lavorato un'ora alla settimana e un occupato. Quindi, questi dati sono molto sfasati, servono per i politicanti, per dire abbiamo fatto qualcosa, la disoccupazione aumenta o diminuisce, dipende un po' dalla situazione. Quindi, tornando a quello che volevo dire, quello è il concetto prima, quindi c'è una creazione di un attivo per i capitalisti perché i soldi che noi, che lo Stato raccoglie attraverso l'imposizione, attraverso l'IVA, attraverso le multe, che cavolo è, diventa un attivo per i capitalisti, mentre per noi, ultimi, è un passivo e facciamo sempre più fatica ad arrivare a fine mese. L'altro argomento che volevo toccare ed è interessante, è quello che il Papa in questi giorni, e precisamente il 28 giugno, sui giornali appariva questa notizia che il Papa parla alla conferenza della CISL, che è un'organizzazione sindacale, parla di lavoro. Quindi il capo della Chiesa Cattolica, dopo le triste esaltazioni del lavoro, quale fattore di dignità della persona, ha parlato positivamente dell'ozio, stranamente anche lui ha parlato dell'ozio e dice certo la persona non è solo lavoro, dobbiamo pensare anche alla sana cultura dell'ozio, di saper riposare, questo, quindi l'ozio, non è pigrizia, è un bisogno umano. Bene, leggendo questo mi veniva in mente quello puscoletto anticapitalista, il diritto all'ozio di Paul Lavargou, è del 1887 e dice, leggo da una frasetta perché è molto interessante, dice che dapprima furono i greci a celebrare l'ozio, collegandolo soprattutto alle classi aristocratiche e dominanti e dice così, i greci nell'epoca del loro splendore non avevano che disprezzo per il lavoro, solo agli schiavi era permesso di lavorare, l'uomo libero conosceva esclusivamente gli esercizi ginnici e i giochi dello spirito, era questa l'epoca in cui si viveva e si respirava in mezzo a un popolo di Aristoteli, di Fidia, di Aristofani, erano questi i tempi in cui un pugno di valorosi travolgeva a maratona le orde dell'Asia che di lì a non molto Alessandro avrebbe conquistato, i filosofi dell'antichità insegnavano il disprezzo per il lavoro, degradazione dell'uomo libero, i poeti cantavano l'ozio, donno degli dèi e poi è scritto in latino omeeliboe deus nobis aec optia fecit che vuol dire omeeliboe quest'ozio è il dono di un dio e questo lo dice Virgilio sulle bucoliche. Proseguiamo il discorso con il pontefice e ha puntato il dito contro un modo del lavoro squilibrato e precisamente dice questa è una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti e ha continuato legando le sfide che il sindacato deve affrontare per potersi sganciare dall'omologazione imperante e dice nelle nostre perché essendo nella conferenza della CISL diceva nelle nostre società capitalistiche avanzate il sindacato rischia di smarrire quella sua natura profetica e diventa troppo possibile alle istituzioni e ai poteri che invece dovrebbero criticare il sindacato col passare del tempo ha finito per somigliare troppo alla politica o meglio ai partiti politici al loro linguaggio al loro stile quindi se la prima sfida per tale organizzazione è quella di ritrovare la lungimiranza delle proprie azioni guadagnandone in termini di forza e di efficacia il secondo riguarda invece l'innovazione ovvero l'agire stesso del sindacato fino ad ora esso si è limitato a tutelare chi un lavoro ce l'ha mentre la vostra vocazione dice sempre il Papa Francesco è rivolgendosi ai sindacalisti e anche proteggere chi i diritti non li ha ancora gli esclusi dal lavoro che sono esclusi anche dai diritti e dalla democrazia e avanti così vedo che il tempo passa io volevo finire leggendovi un attimo uno scritto che ritrovo sull'organizzazione sul sito di quinterna.org e dice diritto al lavoro o libertà dal lavoro salariato perché oggi si parla sempre più di lavoro la gente si suicida per il lavoro c'è un sacco di disoccupazione addirittura c'è nato un partito politico che si chiama articolo 1 che è riferendosi al primo articolo della Costituzione che è una repubblica fondata la repubblica italiana è una repubblica fondata sul lavoro bisogna vedere che lavoro se è lavoro salariato o lavoro associato è una cosa ben diversa e iniziamo a leggere quello che dice questa organizzazione che poi si rifà a Bordiga dice quella del diritto al lavoro non è mai stata parola d'ordine dei proletari comunisti ma essa si rivela una vera stupidaggine nell'epoca in cui una massa consistente di ore di lavoro vengono eliminate per sempre dallo stesso capitalismo se siamo al punto che il capitale dimostra di fare a meno dei lavoratori è evidente che risulta dimostrato anche l'inverso i lavoratori possono benissimo fare a meno del capitale cioè di questo sistema sociale di produzione ogni pianistè sul diritto al lavoro nell'epoca della massima introduzione degli automi dell'informatica è una pura idiozia nella storia dell'umanità niente è stato più insensato dell'odierno culto del lavoro abbiamo finalmente a disposizione i mezzi per essere liberi dalla necessità invece questi mezzi ci dominano ci abbruttiscono il lavoro ci offrono una produttività così alta che la grande maggioranza della popolazione è in esubero rispetto alle esigenze della produzione e non lavora affatto chiunque non si è intossicato dall'ideologia capitalistica capisce benissimo che la liberazione del lavoro umano opera delle macchine della scienza e dell'organizzazione potrebbe essere un vantaggio per tutta l'umanità la quale non sarebbe certo schifata se potesse dedicarsi ad attività vitali o anche semplicemente belle e divertenti invece di essere schiavizzata dalla necessità di accumulare sempre più capitale sembra immessamente lontano il tempo in cui gli operai scendevano in piazza organizzando manifestazioni contro il lavoro quando cioè pretendevano una forte riduzione dell'orario e un salario decente per i disoccupati con le loro famiglie quando avevano il coraggio di sfidare l'avversario sul suo terreno quello preparato dallo sviluppo generale della produttività lo sviluppo sociale e produttivo ci libera dal lavoro e quindi la nostra parola d'ordine umana e non capitalistica dovrebbe essere ancora la stessa macchine computer robot nuova organizzazione la nostra risposta dovrebbe essere non aspettavamo di meglio la liberazione dal tempo di lavoro e tempo di vita guadagnato se il capitalismo sfrutta sempre di più un numero sempre minore di lavoratori gettando gli altri nella disoccupazione ebbene liberiamoci dal capitalismo governanti capitalisti sindacalisti e finti comunisti di ogni specie hanno un bel gridare a gran voce che il lavoro è sacro che è un diritto sancito dalla costituzione che nobilita l'uomo quando il lavoro viene eliminato dal moderno sistema di produzione esso non è né sacro né maledetto è semplicemente superfluo quello che succede oggi di fronte all'operaio che si chiude nel cappannone fattisciente o che si mura nella miniera esaurita e mortale o che si ammazza per 12 ore al giorno con salario tagliato per salvare la sua fabbrica dalla concorrenza c'è un mondo di milioni di persone che non lavorano più i sacerdoti del lavoro si commuovono e benedicono il sacrificio ma le fabbriche e le galerie chiudono comunque ed essi per scongiurare il pelicolo che ci si accorga che è matura l'ora di lavorare tutti due o tre ore al giorno si inventano assurdi lavori socialmente utili per un tozzo di pane che bravi questo si che è progresso una cosa simile li inventò Enrico VIII in Inghilterra nel 500 e fece impiccare chiunque non accettasse di sottomettervi nel 1834 sempre in Inghilterra fu introdotta una variante con la legge sulle case di lavoro dove dall'alba al tramonto i disoccupati venivano impiegati con metodi identici a quelli che in uso per i delinquenti condannati lavori forzati che modernità questi inglesi la logica dei cosiddetti lavori socialmente utili è la stessa dei lavori forzati perché come in quel caso l'operaio sarebbe subordinato all'autorità pubblica che è l'unica a poter decidere come dove e quando sono socialmente utili tali lavori e quanto pagarli l'altra volta li abbiamo visti quanto poco vengono pagati quindi gli industriali vogliono che si lasci libera azione al mercato affinché riduca tale merce a basso prezzo e a disponibilità illimitata i sindacati la vogliono a basso prezzo e a disponibilità illimitata per l'azione di decreti governativi concordati con le cosiddette parti sociali anche quelli che osano ancora definirsi comunisti firmano senza battere ciglio decreti sullo sfruttamento intensivo e estensivo del lavoro si sa le esigenze dei mercati devono essere soddisfatte parlano e gisco così solo a causa della tronfia sicurezza offerta loro da una classe proletaria che pur se provvisoriamente corrotta con false sicurezze ideologie del nulla conserva intatto il potenziale per schiacciarli eccoli perciò organizzare processi e inalzare preghiere al dio lavoro facendosi preti di una religione che lo stesso capitalismo si incarica di distruggere nei fatti da parte nostra difendiamo caparbiamente e finisce con lo scritto di Amadea Bordiga che dice la situazione futura di un ridotto tempo di lavoro ai fini utili alla vita e lavoriamo in funzione di quel risultato dell'avvenire facendo leva su tutti gli sviluppi reali quella conquista che sembra miseramente espressa in ore e ridotta ad un conteggio di tipo sindacale rappresentano una gigantesca vittoria la massima possibile rispetto alla necessità di lavoro che tutti schiavizza e trascina questo lo potete trovare sul sito www.quinterna.org ma non solo questi iscritti tante altre cose il mio tempo è terminato vi saluto e a risentirci fra 15 giorni ciao ciao